Mario Facco è deceduto all'età di 72 anni dopo aver lottato a lungo contro un male incurabile. Ha iniziato la sua carriera calcistica con l'Inter, poi si è trasferito alla Lazio in Serie B nel 1968. In bianco celeste è rimasto per sei stagioni, centrando due promozioni in Serie A e conquistando lo storico scudetto nella stagione 1973-74. La società Lazio attraverso un comunicato ha ricordato il suo ex calciatore. La società Lazio, suo presidente, l'allenatore, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la scomparsa dell'ex calciatore bianco celeste Mario Facco e si uniscono al dolore della famiglia. Continuate a seguire il vostro Jodi The Best Sport Channel per non vedere il facile video.